Si conclude oggi l'edizione di Fantalibrando 2022. Per l'amministrazione un'edizione importantissima perché ha segnato la ripartenza. Ovviamente devo fare dei ringraziamenti a chi ha permesso la realizzazione di questa festa. Ringrazio innanzitutto le scuole che hanno dato, portandogli elaborati i prodotti durante l'anno, il vero senso a questa manifestazione. Ringrazio l'ICI di Volta Mantovana, la Biblioteca Comunale di Monzambano, la Fondazione Città di Monzambano, l'Associazione Culturale Aldamerini, CPO Alto Mantovano, Commissione Pari Opportunità e ovviamente ringrazio tutti i laboratori, tutte le persone, tutti i volontari che si sono resi disponibili per colorare Fantalibrando 2022. Siamo giunti alla conclusione di questa meravigliosa edizione di Fantalibrando. Ci tenevo in maniera particolare a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione e l'ottima riuscita della stessa, tra cui tutti gli editori che hanno allestito la parte esterna di Piazza Beato Zetterino Agostini, tra cui Oligo Editore, Il Rio Edizioni, Elmis World e Editore Mannarino. Il mio collaboratore Maurizio Mantica con storielleria.it che assieme alla mia cartolibreria l'informazione ha dato vita all'esposizione di libri all'interno della palestra. A tutti i volontari che si sono profusi in questi due giorni per l'ottima realizzazione della manifestazione, vi auguro di ritornare e di continuare a seguirci sulle nostre pagine social. Arrivederci al 2023!